Ascolti TV, Ricciardi e GF Vip, chi fatto un gran tonfo tutti i dati. Tonfo per i commissari Ricciardi, Rai 1, che ha appassionato poco più di 3, 6 milioni di utenti, 19. 7% di share, 400 mila in meno rispetto a 7 giorni fa quando ne coinvolse oltre 4 milioni. Stabile il grande fratello Vip7, Canale 5, che ha raccolto quasi 2, 9 milioni di utenti, 22. 5% dato in linea con le puntate precedenti. Cresce leggermente stasera tutto è possibile, Rai 2. Con Stefano De Martino che, forte dell'1, 4 milioni di utenti cro hanno seguito, 9%, può sorridere. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 13 marzo 2023. Il ritorno di Geri Scotti e Francesca Manzini dietro al bancone di striscia la notizia fa impennare i dati del TG satirico che torna abbondantemente oltre i 4 milioni di utenti. Uomini e donne come al solito leader di fascia. Grazie a tutti i dati del TG satirico. Grazie a tutti i dati del TG satirico.